E' una leggenda della guerra. Un soldato senza patria. Conoscete il suo nome. E sapete di cosa è capace. Mi hanno detto che possiamo noleggiare la tua barca. Dobbiamo risalire il fiume. Fin dove? In Birmania. La Birmania è zona di guerra. Risalire il fiume è la nostra unica alternativa. Io non posso aiutarti. Per favore, ci aiuterebbe a cambiare la vita di molta gente. Hai delle armi con te? Certo che no. Allora non cambierai niente. Che è successo? Nessuno lo sa. Sai quello che sei. Di che cosa sei fatto. Fai la guerra nel sangue. Quando sei alle strette Uccidere è facile come respirare. Vivere per niente O morire Per qualcosa Scegli tu.